Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dove vedremo la scelta ottima del produttore, ovvero la determinazione del mix ottimo produttivo in caso di funzione di produzione Leontif, ovvero dove i fattori produttivi sono in una relazione di complementarietà perfetta. Vediamo quindi subito un esercizio nel quale la funzione di produzione è descritta dalla funzione il minimo tra 2k e 3l. Bene, a questo punto sappiamo che per quanto riguarda la funzione complementare i fattori non hanno margine di sostituibilità tra loro e di conseguenza non c'è saggio marginale.